Una cosa è certa, Pasquale lo giudice non sarà più il direttore sportivo della Fidelisandria. Evidentemente quell'alterco avuto nel finale di campionato con il presidente Aldo Rosselli gli è stato fatale o quantomeno non c'è più il rapporto di fiducia con la dirigenza azzurra. Dunque, non avendo Vito di Bari conseguito il patentino UEFA-A, la società federiciana deve stravolgere completamente la guida tecnica, prima di pensare alla rosa. Negli ultimi giorni sta circolando il nome di Francesco Montervino, che ha salutato il Taranto già da un po'. Un profilo di esperienza che piace al presidente e sarebbe ben visto anche dalla piazza, conscia che se si deve puntare sui giovani la guida tecnica deve pure avere qualche capello bianco. Dunque Montervino è in pole position ai piedi del Castel del Monte, anche se la società sta valutando almeno altri quattro profili. Insomma, i dieci giorni sono trascorsi, ma è anche vero che qualcosa sotto traccia si muove. Da Andria fanno sapere che il cerchio si chiuderà il prossimo 9 giugno e quindi entro giovedì. Evidentemente man mano che passano le ore le idee si fanno più chiare, anche perché poi bisognerà pensare al ritiro precampionato.